15 giugno 2021, buongiorno a tutti i cari telespettatori di FanoTV, sono le 7 del mattino, siamo in diretta come tutti i giorni per sfogliare i giornali che abbiamo selezionato per voi, il Carlino e il Corriere Adriatico e tra poco vedremo quali sono le notizie più importanti, vi dico già che parleremo di variante, variante indiana, parleremo di vaccini, insomma approfondiremo un po' queste notizie questa mattina. Intanto andiamo a vedere il santo, poi le previsioni del tempo, il santo di oggi è San Vito, il sole è sorto alle 5.23 e tramonterà questa sera alle 20.50. Uno sguardo anche al tempo per iniziare questa giornata, intanto trebimeteo.com con il caldo africano e l'afa nei prossimi giorni, picchi previsti con le città più calde, insomma dal grafico, dall'elenco delle città, vedete c'è Bologna con punte di 35 gradi nella giornata di venerdì, quindi sarà una settimana molto calda. Ma come di consueto, anche per questa settimana, apriamo, noi ci rinfreschiamo un po' almeno con le immagini, anche se non saremo lì fisicamente, ma cerchiamo di portare un po' di refrigerio con queste immagini che arrivano da una spiaggia, la spiaggia dei Sassi sotto. Oggi siamo a Marotta, in provincia di Pesaro Urbino, e con noi collegato in diretta c'è il bagnino Gianluca Guidi. Buongiorno Gianluca. Buongiorno a tutti. Allora, spiaggia nuova per noi, nel senso che i nostri telespettatori che ci guardano da tutta la regione Mar, che oggi hanno la possibilità di entrare nel tuo stabilimento e di vedere, di conoscerti per molti per la prima volta. Allora, raccontaci un po', in pochi secondi. Allora, innanzitutto oggi è una bellissima giornata, poco vento, a Marotta in genere il vento si fa sentire, ma oggi toccheremo temperature anche di 30 gradi. La spiaggia vi aspetta, spiaggia di Sassi, come il nome dice, Sassi sotto. Il mare è calmo, una stupenda giornata, vi aspettiamo. Vi possiamo accogliere anche con i vostri piccoli animali e quindi venite numerosi. Ecco, senti Gianluca, volevo chiederti, intanto quanti ombrelloni hai a disposizione, quanti posti hai? Allora, l'amministrazione di Mondolfo applicherà la legge regionale, quindi ci darà un piccolo spazio in più quest'anno per superire al distanziamento Covid, quindi dai 114 ombrelloni riuscirò a metterne una ventina in più e quindi dare la possibilità a tutti di poter venire nel nostro stabilimento balneare. Allora, ci fai vedere appena appena il mare, così poi ci salutiamo, ci diamo appuntamento domani. Vediamo il mare un attimo, com'è questa mattina. Ieri c'era parecchio vento, questa mattina si è calmato il mare, vedi? Eccolo qua. Va bene, adesso non ti sentiamo, ma comunque ti vediamo. Grazie, grazie Gianluca, a domani, a domani. Allora, andiamo a vedere adesso... Ecco, grazie, grazie. Adesso andiamo a vedere i giornali, perché questa mattina, come appunto parleremo, affronteremo tra poco il problema, lo abbiamo appena accennato ieri mattina sulla variante indiana. Allora, il titolo del Corriere Adriatico questa mattina non è che sia di buon auspicio. Leggiamolo insieme. La variante indiana arriverà, arriverà anche in Italia, arriverà anche nella nostra regione. Lo dice il virologo Menzo, che aggiunge, già presente questa variante indiana nelle regioni a noi vicine. E poi difende la scelta del mix di dosi per quelli che hanno già fatto la prima di AstraZeneca, e adesso ci si pone il problema, avendo meno di 60 anni, per il richiamo. In una settimana, il 40% dei casi in meno, le marche verso il traguardo della zona bianca, che arriverà soltanto dal 21 di giugno, quindi dalla prossima settimana. Poi c'è l'annunciata conferenza dei servizi De Micheli via libera al Casellino, Casellino di Pesaro. Poi sotto, seconda dose, caos AstraZeneca, vaccini a metà. A scuola, da sospesa, assolte i genitori Novax di una bambina. Poi le pedonalizzazioni, ora gli albergatori chiedono alcune modifiche su Via Le Trieste. Ancora, istituti tecnici marchigiani senza premi del Ministero e sotto, minacce tra automobiliste, la polizia sventa una rissa, viabilità caotica sabato sera in zona mare a Fano, animi tesi e tensioni, i rinforzi chiamati sul posto. Acceso di verbio per questioni di viabilità nella città di Fano, nella zona di Sassonia, durante la serata di sabato scorso, toni concitati e parole taglienti fra due automobilisti che però assicurano le ricostruzioni dell'episodio, non sono arrivate al contatto fisico per il tempestivo intervento della pattuglia della polizia locale. E poi sul Corriere di Oggi, a pagina 17, una foto di gruppo per gli assistenti odontoiatrici, tutti coloro che hanno conquistato il diploma. Sono 18 diplomi ottenuti al Benelli. Vediamo adesso il carino di Pesaro, superiori tutti i caduti della didattica a distanza, bocciati e rimandati in netto aumento nei licei e istituti tecnici. I presidi dicono vero, i ragazzi sono in crisi, tra gente che si è ritirata, come vedremo tra poco, gente che è un po', come dire, scoraggiata, demotivata, soprattutto la motivazione che è venuta a mancare con tutte queste difficoltà nello studiare, studiare da casa. Quindi persone che hanno deciso, ragazzi, giovani che hanno deciso di abbandonare gli studi. A centro pagine il miracolo di Vincenzino. Questa è la fotonotizia del Carlino di Pesaro. nasce in casa, una sarta si improvvisa ostetrica e aiuta la madre. In questa fotografia abbiamo il padrellino, la vicina Alessandra con Vincenzo in braccio e la mamma Anna. Ovviamente tutti strafelici, stracontenti, perché poi il parto è andato nel migliore dei modi. La paura al lab, meglio rimandare le dosi piuttosto che vaccinarmi con AstraZeneca. Come vedete, dopo la morte di Camilla, tanti hanno rifiutato questo vaccino. A ve le spiegate, verso il bianco. Il virus arretra traguardo vicino, ma le marche arrivano ultime. 10 milioni in arrivo per il comune di Pesaro, perché domani c'è in scadenza per i pesaresi la prima rata dell'Imu. Chi è esente e come pagare a pagina 7. Poi Monte Lavattese da raddoppiare, poi una bretella per 3 anni, la nuova Pesaro Urbino. Sotto, sindaco sotto Torchio per il progetto di scarica a Monte Grimano Terme, consiglio di fuoco. Pesava 200 chili, muore lungo le scale la tragedia di una donna a Monte Granaro. Queste sono le due prime pagine. Adesso invece andiamo a vedere le pagine interne dei nostri quotidiani. Abbiamo selezionato alcune pagine per voi, in particolare queste sulle quali ci soffermeremo, perché qui è il caso adesso di approfondire un po' questo discorso della variante, perché l'esperienza ci insegna che quando in Inghilterra succedono cose, poi inevitabilmente si ripercuotono anche nel resto dell'Europa. Adesso la variante Delta, quella che viene chiamata la variante Delta, cioè la variante indiana, fa paura. A Londra è allarme per i ricoveri. Il Premier Johnson rinvia la riappertura al 19 luglio, doveva essere il 21 giugno. Servono restrizioni, i contagi crescono al 64% a settimana. Facciamo attenzione ai numeri, facciamo attenzione a quello che leggiamo, perché è importante per poter fare un'idea anche personale. Non beviamo sempre tutto quello che ci dicono i telegiornali, tutto quello che scrivono i giornali. Cerchiamo, da quello che scrivono, anche di fare un'analisi logica nostra, con la nostra testa, con le nostre valutazioni. Intanto, secondo alcune simulazioni del Scientific Pandemic Influenza Group of Modeling fornite a Downing Street, il numero di vittime nei prossimi giorni in Inghilterra potrebbe raggiungere tra fine giugno e inizio luglio il picco della prima ondata, cioè 1.400-1.500 morti al giorno, con 50-60.000 positivi al giorno. Sui social giravano anche stime che parlavano di cifre astratosferiche attorno ai 4.000 morti al giorno, ma di questo non c'è alcuna conferma, come scrive il giornale questa mattina, Alessandro Farruggia sul resto del Carlino. Da quattro settimane la Gran Bretagna è nuovamente in una fase di crescita esponenziale dei contagi, con un tempo di raddoppio di circa sette giorni, conferma lo statistico Giovanni Sebastiani, ricercatore del CNR. Il problema, sottolinea Sebastiani, è che noi non stiamo sequenziando il virus. Dovremmo, dice lui, sequenziare di più e testare di più per individuare qualunque tipo di eventuale variante cattiva che possa svilupparsi, invece non lo stiamo facendo. La variante indiana è un grosso enigma, dice ancora. Studiata, va studiata molto bene e occorre sequenziare molto, conferma Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell'Agenzia Europea del Farmaco EMA. In questo senso fare più sequenziamenti si era espressa anche nei giorni scorsi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma attenzione, nell'attesa di procedere in questa direzione, cioè quindi sulla sequenziare di più per conoscere meglio, quantomeno iniziamo a porci il problema se ripristinare le barriere con Londra. E qui, secondo me, per come viene descritto, per l'attesa che ancora intendono i governanti attuare in attesa di eventuali blocchi, ecco, questa attesa, secondo me, comincia a essere il primo neo. Perché? Perché ci siamo già passati, ci siamo già passati con la variante inglese, abbiamo atteso, abbiamo aspettato, ci siamo passati all'inizio di questa pandemia, quando dalla Cina arrivavano le informazioni, qua rassicuravano tutti dicendoci che non sarebbe mai arrivata, sin qui, anzi, ci siamo permessi il lusso di inviare noi, italiani, le mascherine in Cina, perché là ne avevano bisogno, poi qua ci siamo ritrovati con sedere per terra. Insomma, tutte cose un po' così alla rinfusa. Adesso, per la terza volta, ci stiamo domandando se è il caso di bloccare le persone che vengono dall'Inghilterra verso l'Italia. Cosa vogliamo aspettare ancora? Mi domando io. Che arrivi la variante indiana anche qua? Già è arrivata e lo vedremo tra poco. Ma comunque, se è possibile arginare ancora di più, fermiamoli. Se là stanno messi male, per quale ragione, qualcuno mi deve spiegare, continuiamo a far arrivare gente dall'Inghilterra. Però attenzione, andiamo avanti. In questo momento, ha detto ieri il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che cosa ha detto Speranza? Che, per chi arriva in Italia dalla Gran Bretagna, c'è che cosa il tampone? Ecco, gli facciamo un bel tampone. Quel Paese ancora ha numeri incoraggianti, dice Speranza, e quindi già siamo messi male, se ha detto così, ma se nei prossimi giorni la curva dei contagi dovesse peggiorare, valuteremo anche la quarantena. Ora, lo scrive il Carlino. Ritorniamo indietro, perché io non so che dati ha il Ministro Speranza, però qua c'è scritto, tornando indietro, il numero di vittime potrebbe raggiungere tra fine giugno e inizio luglio il picco della prima ondata, cioè attorno a 1.400-1.500 morti al giorno, con 50-60.000 positivi al giorno. Ora, sono previsioni del scientific pandemic influenza group of modeling. Ora, se ce li ha questi dati il resto del Carlino, non capisco perché il Ministro Speranza continua a dire che vedremo nei prossimi giorni se la curva dei contagi dovesse peggiorare. Lo abbiamo appena letto che peggiorerà comunque. È giusto essere preoccupati, dice Speranza, valuteremo con gli altri Ministri della Salute europei. Più in generale sulla variante indiana gli studi sono in corso, ma le ricerche ci dicono che con le due dosi di vaccino la variante indiana è contenibile con una percentuale molto alta. Tant'è che anche qui un'altra osservazione andrebbe fatta, cioè gli inglesi si sono vaccinati per la maggior parte con AstraZeneca, hanno un loro vaccino, che però rispetto alla variante, come vedremo, indiana ha una copertura più bassa rispetto agli altri vaccini. Noi invece ne abbiamo quattro a disposizione, loro meno, e quindi è anche per questo probabilmente che ricominciano a infettarsi, nonostante siano tantissimi inglesi vaccinati. Uno studio scozzese pubblicato sulla prestigiosa rivista medica Lancet, quindi insomma stiamo parlando di una rivista importantissima, mostra che il vaccino Pfizer-BioNTech fornisce contro la variante indiana una protezione del 79%, quindi chi ha fatto Pfizer, anche tra i nostri telespettatori, chi ha fatto Pfizer e dovesse incontrare qualcuno che ha la variante indiana, quindi il contagio, ha una protezione, sappia che ha una protezione non del 100%, ma questo lo sappiamo già, non esiste un vaccino che copre il 100%, ma, secondo lo studio, del 79%, quindi è abbastanza protetto, ma non completamente protetto, rispetto al 92% di protezione con la variante inglese. Mentre per il vaccino Oxford-AstraZeneca, come dicevo, è stata rilevata una protezione del 60% contro le infezioni dovute alla variante inglese, indiana, scusate, rispetto al 73% della variante inglese. Ok, quindi diciamo anche che i vaccini, è stato rilevato, riducono il rischio di finire all'ospedale, ma occorrono 28 giorni dopo la somministrazione della prima dose per riscontrare forti effetti di protezione contro la variante indiana. Con due dosi si inducono anticorpi che neutralizzano tutte le varianti, osserva Burioni, mentre con una sola dose, dose no. Quindi se avete fatto una sola dose bisogna prestare ancora molta attenzione, ma questo vale un po' per tutti, non solo per la variante inglese. Ma attenzione, quali sono questi nuovi sintomi della variante indiana? Sono mal di testa, mal di gola e naso che cola. Questi sono i principali sintomi che colpiscono gli effetti della variante delta del Covid. Delta e indiana sono la stessa cosa. Questa variante che si sta diffondendo a rapida velocità nel Regno Unito. Lo afferma chi? Lo afferma uno scienziato del Regno, il professore Tim Spector. Ok? Lui dice anche potrebbe essere scambiato più come un brutto raffreddore, sostiene lo studioso, ma in realtà se avete mal di testa e soprattutto il naso che cola, più che un brutto raffreddore già potrebbe essere il Covid. Laddove invece i sintomi più comuni del coronavirus sono come sempre la tosse, febbre, perdita dell'olfatto e del gusto. Ma cosa dice il nostro esperto, diciamo il nostro, inteso come il professor Stefano Menzo, che è direttore del laboratorio di virologia degli ospedali riuniti di Torrette di Ancona. Com'è la situazione rispetto alla variante delta o indiana qui nelle Marche? La variante indiana dice Menzo, ce lo aspettiamo, è già arrivata anzi, nelle regioni qua vicino a noi, confinanti, solo i vaccini ci mettono in sicurezza. Il mix dei seri funziona meglio di due dosi di AstraZeneca. Vedete come anche qui a leggere i giornali, a leggere le notizie, ma non solo i giornali, a sentire i telegiornali, a leggere le notizie su internet, cercando di evitare i siti, quelli anonimi, ma andando a cercare quelli, insomma, seri, credibili quantomeno. Bene, ognuno ha la sua ricetta, ognuno dice la sua. Ieri leggevo sfilze di articoli dove studiosi, ricercatori, dicevano che il mix, il cocktail, come richiamo, non andava bene per chi aveva fatto AstraZeneca. Oggi leggiamo invece tutt'altra cosa. Insomma, capite che tutto questo, ribadisco, lo si fa sulla pelle delle persone. Però poi ognuno, una volta si diceva, vendevo cara, no, vendere cara la pelle, vendere cara la pelle. Perché è una cosa importante, la propria pelle. Oggi invece la si dà per una gita, una vacanza, una settimana magari alle Seychelles. Ma comunque, nelle Marche, dice il professor Menzo, non l'abbiamo ancora rilevata, questa variante indiana, Delta, ma la probabilità, dice lui, che arrivi non è bassa perché in Italia già circola. Sono stati riscontrati alcuni casi nel Lazio, per esempio, inoltre con l'Inghilterra, eccola qui, non abbiamo ancora chiuso i collegamenti. Ora, se questo virologo, io sono sicuro, avesse la possibilità di decidere se tenere aperte o chiuse le frontiere con l'Inghilterra, lui direbbe sicuramente chiudiamo tutti i collegamenti e buttiamo via la chiave fino a quando, fino a quando, fino a quando non sarà finita questa cosa. E allora si continua a tenere tutto aperto, ma va bene, abbiamo il nostro ministro che decide e fa, continua a fare, nonostante tutto, e comunque questa variante è più diffusiva, è più difficile da neutralizzare, e quindi accoppia due qualità piuttosto pericolosa. Quindi è più diffusiva, si diffonde con più facilità, ed è più difficile da neutralizzare, anche con i vaccini. È solo una questione di tempo, chiede, credo, Martina Marinangeli. Sì, esatto. La risposta del professore è, quello che ci salva sono le scuole chiuse, perché rappresentano un importante motore di diffusione di queste varianti, e il fatto che si viaggi di più può comportare un aumento del rischio. Si viaggiava anche l'estate scorsa, risponde il professore, ma l'ondata è arrivata ad un mese dalla riapertura delle scuole. Quest'anno però abbiamo il vaccino, quindi speriamo di riuscire a fare un po' meglio. Ora, anche basterebbero soltanto queste poche righe per far muovere un po' il nostro cervello, la nostra intelligenza, il nostro buonsenso, perché non c'è bisogno di essere virologi o esperti, eccetera, eccetera. E intanto qui navighiamo tutti a vista, quindi chi ha il buonsenso lo applichi, anche sulle cose che legge. E allora già qui, leggendo questa dichiarazione, si capisce che saremo appunto a capo. Chi diceva che a ottobre il virus sarebbe scomparso, leggendo queste righe, ovviamente deve ricredersi. Quindi è probabile che a ottobre si ricomincerà tutto da capo. Perché? Perché lo dice l'esperienza a questo punto, visto che è un anno e mezzo che ci siamo dentro. Lo dice l'esperienza, un po' come stanno andando le cose. Più o meno l'andazzo è questo. E questo conferma un'altra cosa, che fino a qualche mese fa era un tabù, non si poteva dire, che invece adesso si dice tranquillamente. Che questo virus non è naturale, non è nato dagli animali ed è passato poi attraverso di loro nell'uomo. Perché se fosse stato naturale, la storia, la letteratura scientifica ci insegna che dopo un anno, un anno e mezzo, queste cose spariscono, comunque si ridimensionano e diventano virus con cui noi conviviamo tranquillamente. Invece qui non conviveremo proprio per niente tranquillamente. Noi dovremmo combattere ancora di più un nemico che si irrobustisce ogni volta. Perché si irrobustisce? Perché varia e soprattutto perché è stato potenziato in un laboratorio. Questo è chiaro ormai e infatti adesso ne parlano tutti. Anche in America adesso si parla tranquillamente di virus prodotto in laboratorio, sfuggito dalle mani dell'uomo per un incidente, perché l'ha voluto, questo ce lo dirà la storia, ma questo è, questo è e non possiamo nasconderlo. E quindi un virus potenziato è un virus che non se ne va facilmente, è un virus che bisognerà combattere fino all'ultimo sangue. Questo è poco ma è sicuro. Intanto, l'altra pagina del giornale che vi segnalo questa mattina, pagina 7 del resto del Carlino, vaccini, analisi su 300 decessi, il legame solo in quattro case. Qui si butta un po' di acqua sul fuoco, si cerca di spaventare il meno possibile, ed è anche giusto, ma un conto è evitare l'allarmismo, anche perché ormai con l'allarmismo in Italia ci abbiamo fatto il callo, perché è tutto un allarme da quando è iniziata questa pandemia, si va avanti a forza di terrorizzare la gente. E quindi il report dell'AIFA dice, dopo 32 milioni di iniezioni, indagine medica curata, poi a decidere è l'algoritmo dell'OMS. La morte, attenzione, dopo la vaccinazione, osserva l'AIFA, è un evento solo coincidente con la somministrazione del vaccino, perché le cause del decesso sono dovute ad altre patologie concomitanti o aventi già in atto al momento della vaccinazione. La morte per la vaccinazione, invece, avviene a seguito di una sequela di eventi identificati come correlabili alla vaccinazione, che sfortunatamente non è stata possibile aggirare con opportune terapie e interventi specialistici. Ora, è chiaro che sarebbe opportuno non fare gli open day e dire adesso ragazzi, allegramente, come ho sempre detto, andiamo a vaccinare tutti quanti, eccetera. No, il vaccino è una cosa seria. Il vaccino è un farmaco, il vaccino va fatto con la massima attenzione, con scrupolosità, bisogna fare con il proprio medico una valutazione seria, fare una visita, un check, prima di andare a farsi vaccinare, perché uno può anche avere qualcosa che non conosce, che non sa, e quindi va lì e poi rimane fregato. Invece no, qui si va tutti allegramente, pizza, panini, birre, con il vaccino in omaggio, cioè queste sono cose. Veramente, io però mi fermo qui perché dobbiamo commentare e non fare comizio. Ma comunque, questa è un po' la situazione. Poi, stranamente, se uno muore di infarto e ha il Covid, nelle statistiche viene fuori che quella persona è morta di Covid. Se invece muore di infarto e si scopre che ha fatto il vaccino, la persona no, è morta di infarto e non con il vaccino. Ecco, anche qui bisogna vedere come leggere un po' i dati. Intanto vi segnalo, sulla pagina di Iesi, perché i giornali me li leggo tutti, di tutte le edizioni, di tutte le marche, questo persona di 39 anni, si chiama Giordano Fiori, che muore sul divano, non aveva patologie e aveva fatto il vaccino in un discorso. Il medico ha chiesto giustamente l'autopsia. Ora, chiaramente, qui al momento siamo tutti sull'ipotesi, nessuno può dire niente, però è chiaro che a 39 anni, senza patologie, muore all'improvviso dopo una settimana che aveva fatto il vaccino. Cosa potrà essere successo? Probabilmente quello che abbiamo appena detto. Cioè, se uno va a fare il vaccino senza una visita, una visita magari prima dal medico, io posso anche stare bene, ma che ne so quello che ho dentro e che cosa sta succedendo nel mio corpo. Può darsi che c'è qualcosa che cova e non so. Poi vai a fare il vaccino e il vaccino scatena quella cosa che stava lì, covando, tranquilla, magari, piano piano, che sarebbe venuta fuori magari nel tempo, ma che il vaccino ha accelerato. Quindi tutte considerazioni che immagino anche voi a casa farete, ma quello che voglio sottolineare è che non è il caso di andare allegramente a fare i vaccini. Bisogna farlo con serietà e andando a fare le visite prima di farsi fare la punturina. Intanto su questo decesso vi ricordo il funerale che è stato fissato per domani alle 17.30, la chiesa del Divino Amore a Iesi. Il tempo è volato, ma andava fatta tutta questa filippica, perché sono temi importanti. Meno 40% di casi in una settimana, in bianco da lunedì. Ecco, intanto comunque ci tiriamo un po' su di morale, perché le marche vanno verso il traguardo della fascia con meno restrizioni. L'occupazione per Covid delle terapie intensive è il 4%. I decessi sono in calo. Vedete come meglio la dose in ritardo che AstraZeneca, cioè come dire, meglio fare il vaccino più tardi, ma non con AstraZeneca. Gli over 60 la paura fa slittare le prenotazioni. La diffidenza per il siero anglo-svedese dilaga l'ex ristò. Ieri 1.000 sulle amministrazioni, ma tutti con Pfizer. E tanti fanno richieste esplicite. Intanto da Pergola, 8 positivi e solo 15 persone in quarantena. Gli isolamenti sono troppo pochi. Dice il sindaco, dice, è impossibile. I numeri non tornano. L'appello della sindaca Guidarelli, che dice, chi è stato in contatto non deve uscire. Anche qui andrebbe fatto un commento, ma non abbiamo tempo. Allora, 7.28, per chi ci segue in diretta, andiamo velocemente a scuola, anche se sospesa, assolti due genitori Novax. La bimba era stata portata in classe pur non essendo vaccinata. Per il Tribunale il fatto non sussiste. Poi, tra abbandoni e bocciature, i caduti del Covid. Guardate, 39% al Bramante Genga sospese a settembre, 20% hanno lasciato all'Agrario Cecchi, 60% non hanno superato l'anno al Mamiani. Poi, una donna che è stata a soccorso obesa nelle scale e è accaduto in Via Galilea a Pesaro. La paziente, 200 kg circa, era stata distesa su un telo sorretto da sei vigili del fuoco. Poi, all'improvviso, è arrivato il decesso. Vincenzo, che nasce in casa, il 118 l'aiuta al telefono, minacce in auto, arriva la polizia. Viabilità caotica, sabato sera, come abbiamo visto, l'episodio alle 22.30 a Fano. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Vi ricordo questa sera il terzo appuntamento con la serie di approfondimenti su Passaggi Festival. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti. Arrivederci.